Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 28 giugno, sono le 9.16 e abbiamo avuto quello che aspettavamo da un pochino di tempo. Che cosa? Un'altra delle condizioni per finalmente andare a chiudere il settimanale partito in precedenza qua e con la previsione che ci fosse un rimbalzo entro quanto? Entro i tempi ciclici corretti. Eccoli qua, 11 giorni, candela rossa ma sempre di spinta, quindi nuovo ciclo e adesso siamo arrivati qua sopra. Siamo andati a 15.938, qui non lo fa vedere, 15.937. Ok, siamo arrivati sulla media mobile. A questo punto, come al solito, chi conosce le regole di analisi evoluta, si fa una domanda. Quanto tempo possiamo ancora continuare a salire? Risposta molto semplice, guardando il grafico, 36 barre, massimo sappiamo quanto dura un ciclo 44. Eccolo qua, ho corretto ieri, sì, mi avete fatto notare che su DAX avevo segnato 24 come su MIB ma ero un po' di corse quindi non ce l'ho fatta, ma bravissimi, complimenti, è sempre giusto essere attenti a qualsiasi dettaglio quando si fa trading. Comunque, possiamo provare a continuare a salire fino alle 11.15. Dopo le 11.15 iniziare a vedere, perché questo è già il tempo massimo, se inizierà ad esserci uno storno. Stiamo provando a fare un breakout, a rompere la media mobile a 200 periodi. Primo tentativo non è andato a buon fine, secondo tentativo vedremo. Anche perché quello che vi faccio vedere sul grafico, ok, può variare se aggiungo tanti altri elementi e noi stiamo facendo dei test, come detto, soprattutto su long e short tecnica 2 per ancora affinare la nostra tecnica e quindi anche oggi faremo un altro esperimento, questa volta immagino con soldi reali. Tanti test, stiamo facendo i backtest in questo momento, prima di ragionare appunto di integrare l'analisi evoluta con altri indicatori e altre tecniche di ingresso quando non ci sono vincoli. Sul loro stiamo avendo dei validi risultati grazie a due trader che collaborano a tempo pieno con me, anzi a tempo pieno magari sarebbe bello, a tempo parziale con me. A questo punto sapete che cosa ci aspettiamo di fare. Stiamo valutando quando andare a fare uno short. Un tecnica 2 normale ci permette di guadagnare molto di più che un semplice tecnica 1 con vincolo. Il discorso è che però diventa molto più rischioso, quindi vedrò se riuscirò oggi a dar corso alle operazioni anche perché mi sposterò per andare da dei prospect alle 5 terre e quindi la connessione come sapete può andare e venire quando si fanno dei viaggi. Ragionerò però ovviamente di inserire le operazioni in automatico questa volta perché ieri avevo intenzione di valutare un movimento, poi dato che è iniziato in maniera molto molto lenta siamo stati a fare i nostri backtest, mi sono preparato appunto per la puntata di House of Trading, vi lascerò il link per rivederla se ve la siete persa, sia i singoli video che anche quelli relativi alla puntata intera anche se abbiamo avuto qualche contrattempo effettivamente. Avete visto che i due trade dati nella scorsa puntata, nella prima puntata a cui ho partecipato, sia S&P 500 che Oro sono andati perfettamente a target. Questo per quanto riguarda il DAX, facciamo soltanto un attimo un altro controllo, qui più diventa un bar, sì perfetto, da qui possiamo far partire appunto il terzo T-3. Qui non è inverso, ok. Quando le cose si fanno di corsa si fanno male quindi è sempre meglio controllare. Ricordiamoci sempre che questa è la seconda condizione necessaria sufficiente per chiudere, ma a noi serviva che cosa? A noi serviva il tempo per far partire un nuovo T settimanale e che cos'altro serviva? Ci serviva la violazione di uno swing per andare ad avere una certificazione della partenza stessa del T settimanale. Per cui eccoci qua ed ecco che anche la provisione fatta nel weekend era corretta perché ci troviamo qui sopra. Per quanto riguarda il MIB, l'indice italiano, situazione molto simile. Qui stiamo già iniziando a scendere, siamo arrivati a 33 barre, con questa non la contiamo, sarebbe la 34esima, in media sono 32 come potete vedere qua, ok, tabella corretta. Stessa identica cosa per il T-3 come vedete, anche in questo caso valuteremo facendo molta attenzione per una cosa, qui si sta andando in Golden Cross. E' vero che come vi ho fatto vedere ieri sul video di Bitcoin può essere annullato, però attenzione, quindi calma, se non conoscete l'analisi evoluta non fate trading assolutamente, prima si studia e poi si fa tutto il resto, intanto sapete dove trovare il corso sempre su questo canale, totalmente gratuito per avere i rudimenti. Attenzione perché anche in questo caso aspettavamo le stesse identiche cose, ovvero almeno 48 barre sopra un minimo e noi siamo a 67 e la violazione di uno swing per far partire un T settimanale. Ci sarà stata? I livelli algo ovviamente per il gruppo premium. Buona giornata a tutti, la mia sarà stupenda perché ho già deciso così. Arrivederci!